Sono arrivate con qualche ora di ritardo nella giornata di ieri le dosi previste per l'ospedale di Vallo della Lucania alle ore 13 per l'esattezza. Il ritardo è stato dovuto a causa delle condizioni meteo avverse, ma fortunatamente il vaccino è stato consegnato scortato dai militari dell'arma dei carabinieri. Le due strutture ospedaliere individuate nel Cilento e nel Vallo di Diano, precisamente l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania e l'ospedale Luigi Curto di Polla, avranno a disposizione 975 dosi di vaccino anti-covid. Si partirà oggi col vaccinare il personale maggiormente esposto, centro covid, pronto soccorso, terapie intensive, subintensive, rianimazioni, infettivi e si procederà successivamente con gli operatori delle residenze sanitarie assistite. Dopo 21 giorni dalla vaccinazione è prevista la seconda dose di richiamo per cui gli operatori verranno richiamati. Dopo 7-10 giorni dalla somministrazione di questa seconda dose, il lavoratore si potrà considerare immunizzato. Poi nel mese di gennaio si passerà la somministrazione del vaccino in generale ai cittadini. Anche presso l'ospedale di Polla, ieri mattina si è provveduto ad effettuare le ultime verifiche legate alla gestione e dalle attività di somministrazione dei vaccini al personale con i carabinieri del NAS, che come previsto dalla normativa, hanno effettuato tutte le operazioni di controllo sui percorsi per garantire un'attività di vaccinazione sicura e controllata. Dopo la consegna dei vaccini si procederà con l'adozione delle misure previste dal protocollo, partendo dalle operazioni di stoccaggio delle fiale. Dopodiché partirà la campagna vaccinale.